Ben trovati nuovamente amici telespettatori. Quest'oggi cambiamo un po' la nostra scaletta perché il primo gennaio e in questo anno 2013 la Chiesa ricorda i 300 anni della morte di San Giuseppe Maria Tomasi, un grande studioso di liturgia, Cardinale Teatino. A farlo, a ricordarlo per noi quest'oggi, Domilde Brando Scicolone. Ben trovato, Domilde Brando. Grazie a te possiamo ricordare questo santo, San Giuseppe Maria Tomasi. Come nasce il tuo interesse, il tuo legame con San Giuseppe Maria? Io sono stato studente di liturgia quattro anni al Pontificio Istituto Liturgico e quando si è trattato di scegliere il tema per la mia tesi dottorale, cercando e cercando, mi sono ricordato che il sacramentario gelasiano, attribuito appunto a Papa Gelasio, questo codice che si trova nella biblioteca vaticana, per la prima volta è stato pubblicato nel 1680 da questo Giuseppe Tomasi, di cui io non sapevo altro. Conoscevo semplicemente il nome e mi sono incuriosito dicendo, ma vediamo chi è, se ha fatto qualche altra cosa. E allora nella biblioteca del mio monastero, a San Martino delle Scale, vicino Palermo, ho cercato nello schedario Giuseppe Tomasi, ho trovato un volume della rivista Regnum Dei dei Teatini del 1949 e lì in prima pagina c'era una specie di lapide dove si diceva Iosef Tomasius Educibus Palmenatus, mi sono interessato di più perché io sono nativo di Palma Montechiaro e lui era dei duchi di Palma. Allora sono andato alle monache benedettine che stanno al mio paese e ho domandato ma voi avete niente di Giuseppe Tomasi? E subito alle monache dice, chi? Il beato Giuseppe? Ma abbiamo tante cose qui, abbiamo la tonaca, cardinalizia, abbiamo un paio di scarpe, una nuova e una vecchia, ho domandato perché una nuova e una vecchia? Cioè perché lui una volta ha incontrato un povero e allora gli ha detto che non aveva le scarpe, dice aspetta che vado a casa, mi tolgo le scarpe e te le do, ti do queste scarpe. Solo che a casa, allora non c'era la luce elettrica, levandosi le scarpe ha preso quelle nuove che da doveva dare, ne ha messa una nuova e una vecchia e quindi una nuova e una vecchia sono rimaste. E poi ho trovato anche che c'erano circa 400 lettere, manoscritte, cioè originali, di Giuseppe Tomasi alle sorelle che erano mone che benedettina di quel monastero. Mi sono incuriosito, poi mi hanno detto altre lettere, sono all'archivio generale dei Tiatini a Roma, a Sant'Andrea della Valle e sono andato a Sant'Andrea della Valle. Lì ho trovato l'urna col corpo del beato Giuseppe che era ancora beato negli anni 70 e il padre archivista, lo storico dei Tiatini, voglio ricordare il padre Francesco Andreu, mi ha messo a disposizione l'archivio. Così ho trovato che ci sono sette volumi di opera omnia di questo Giuseppe Tomasi più altri quattro volumi di testi patristici pubblicati pure da lui. Allora è cominciato il mio interesse. Questo interesse. E ho visto che tra le opere del Tomasi c'erano molti libri liturgici. Diciamo che è stato il primo grande editore dei libri liturgici. Chi era Giuseppe Tomasi? Raccontaci un po' la storia. Prima di tutto hai detto che è siciliana. È siciliana. Dunque Giuseppe Tomasi è figlio di Giulio Tomasi che era gemello di Carlo Tomasi. Due fratelli gemelli, Carlo e Giulio, però questi erano duchi di Palma, nel senso che il re di Spagna allora aveva dato a questa famiglia, che era stata una famiglia che aveva combattuto a Lepanto e aveva dato il Ducato di Palma e poi in seguito le farà anche Principi di Lampedusa. Dunque Giuseppe Tomasi, Principe di Lampedusa, noi subito pensiamo a quel letterato che ha pubblicato il libro Il Gatto Pardo, perché Il Gatto Pardo rampante era lo stemma della famiglia Tomasi, solo che Giuseppe è autore del romanzo, che poi è uscito postumo nel 58, e Giuseppe V, mentre io parlo adesso di Giuseppe I. Dunque dei due fratelli, Carlo si è fatto teatino, rinunciando alla primo genitura, è rimasto il Duca Giulio. A Palma i miei paesani lo chiamano il Duca Santo, il Santo Duca, che aveva sposato la baronessa di Torretta e quindi avevano formato questa famiglia, da cui sono nati tanti figli, due maschi, Giuseppe appunto e Ferdinando, e poi cinque o sei, adesso non mi ricordo bene, femmine. Di queste femmine qualcuna è morta presto e altre invece tutte e quattro si sono fatte monache benedettine, anzi per queste figlie monache lui ha ceduto il palazzo Ducale ed è diventato monastero, monastero delle benedettine che tuttora esiste, tuttora queste monache fanno dei dolci, dei biscotti di mandorla, che sono i famosi mandorlati di cui parla il romanzo Il Gatto Pardo. E' comunque una famiglia cristiana. Una famiglia di santi. Di santi. E hanno fondato il paese di Palma, nel 1637 è stata posta la prima pietra proprio nel luogo dove sorge il monastero, il 3 di maggio, perché l'arciprete di Palma che era stato nominato da questi Tomasi, i fondatori, era uno scienziato, un astronomo, in corrispondenza con Newton, con Galilei, perché era Giambattista odierna, ha pubblicato le sue opere in latino e opere scientifiche pubblicate a Londra, pensate un po'. Allora lui aveva calcolato la congiunzione degli astri della luce eccetera eccetera, per cui il 3 maggio a quell'ora si doveva porre la prima pietra in quel posto. e nasce la famiglia. Quattro di queste figlie, di queste sorelle di Giuseppe, si fanno monache, poi alla fine della loro vita, dopo che avevano sistemato tutti i figli, anche i genitori, cioè Giulio Tomasi e donna Rosalia Traina, che era la mamma, la moglie di Giulio, si sono separati consensualmente. La mamma è entrata in monastero come oblata e ha cambiato nome, si è chiamata Sor Maria Seppellita e invece il duca si è ritirato a vita eremitica e ascetica, dunque una famiglia di santi, si potrebbe anche beatificare o canonizzare anche i genitori per lo meno. Dunque Giuseppe rinuncia anche lui alla primogenitura seguendo lo zio Carlo e entra nell'ordine dei Teatini, nasce il 12 settembre del 1649 e qualche vent'anni, meno di vent'anni dopo lo troviamo novizio nella chiesa di San Giuseppe dei Teatini ai quattro canti di Palermo, Palermo è una città divisa da una croce praticamente, via Maqueda, via Ruggero VII, via La Libertà e dall'altra parte il Cassaro, cioè il corso Vittorio Emanuele si chiama oggi, al centro ci sono questi quattro canti con quattro statue dei re spagnoli evidentemente nel tempo. Lo troviamo professo a Palermo e poi viene mandato per gli studi in diverse città d'Italia, a Messina, a Bologna, a Ferrara, a Modena e già nel 69, quindi a vent'anni, lo troviamo sul diacono e da Modena io ho trovato la prima lettera che lui scriveva a Palma, è nato a Licata, devo ricordarlo, Licata è una città vicino a Palma, ma probabilmente prima che Palma fosse fondata, è chiaro che era stata fondata da 10 anni, i genitori stavano ancora a Licata e poi diciamo che è di Palma perché la sua famiglia è di Palma. Le sorelle monache si sono chiamate con nomi curiosi, una si è chiamata, era Isabella Tomasi, si è chiamata Sor Maria Crocifissa, un'altra si è chiamata... Che è venerabile. Che è venerabile, anzi a Palma è molto più conosciuta la venerabile. Rispetto al fratello santo. Rispetto al fratello santo perché questa sorella crocifissa era una grande mistica, perseguitata anche dal diavolo, chi va a Palma troverà sotto l'urna che custodisce le spoglie mortali di Sor Maria Crocifissa, della venerabile appunto, troverà una pietra, una pietra di mare, una cote, bella, grossa e secondo la, non la leggenda, secondo i biografi è una pietra che le avrebbe scagliato il demonio, come pure si trova nell'archivio del monastero una lettera scritta con caratteri indecifrabili ed è la cosiddetta lettera del demonio, una lettera in cui il demonio chiede al Padre Eterno, ma doveva firmarla crocifissa, di distruggere il genere umano e leggiamo noi solo una parola in mezzo, oimè, perché quando il diavolo le chiese di firmare quella lettera, lei scrisse, oimè, e poi il diavolo continuò a scrivere, nessuno ha mai decifrato questo, quello che io sto dicendo del contenuto della lettera sembra che sia stato interpretato da un indemoniato, penso un po', ogni modo, una grande mistica, c'è tante pubblicazioni, tanti lettere, scritti e visioni eccetera. Questa è la prima sorella? Una santa, una della sorella, poi l'altra si è chiamata Sor Maria Lanceata, colpita dalla lancia, un'altra Sor Maria Maddalena, stava ai piedi della croce e un'altra Sor Maria Sarafica, dunque nomi, perché noi cambiavamo il nome, io pure da Giovanni mi chiamo il De Brando, calcolando la mamma seppellita, la mamma seppellita poi dopo, dunque c'era la mistica della croce, siamo nel 1600, dopo il concilio di Trento eccetera eccetera, lui comunque va nell'ordine dei teatini e poi dopo gli studi viene ordinato prete a Roma e rimane sempre per 40 anni a Roma nella casa di San Silvestro a Monte Cavallo, sarebbe al Quirinale, una casa che non è più dei teatini adesso, mentre adesso la casa generalizia dei teatini è a Sant'Andrea della Valle, corso Vittorio Emanuele a Roma, si dedica agli studi, perché lui dice altri cerchino Aristotele o Platone, vadano ad Atene a fare i filosofi, a me piace stare a Gerusalemme, ai piedi del Signore e pensare a parlare con lui e studiare il suo pensiero eccetera e si dedica a visitare tutte le biblioteche dell'Urbe, a Roma c'erano tante biblioteche importanti, fondate magari da cardinali studiosi e c'era soprattutto un cenacolo di studiosi attorno alla biblioteca della regina Cristina di Svezia, la regina Cristina di Svezia aveva dovuto abdicare al regno perché cattolica, allora si era rifugiata in Vaticano e aveva portato con sé tutti i libri che aveva, codici, i manoscritti eccetera e allora attorno a questa biblioteca si era creato un circolo di studiosi, posso ricordare qualche nome grosso, ad esempio il cardinale Casanata, ora c'è la biblioteca Casanatenze, il cardinale Albani, il cardinale Colloredo, De Aguirre, di tutti gli ordini evidentemente secolari e religiosi e lì chiede alla regina di poter pubblicare questi codici e pubblica per la prima volta nella storia il cosiddetto sacramentario gelasiano attribuito a Papa Gelasio, che sarebbe stato Papa, no è stato Papa dal 492 al 496, questo codice era stato già visto, descritto ma mai pubblicato e insieme a questo codice più antico di 900 anni, l'edizione, la prima edizione che pubblica il Tomasi nel 1680 è codices liturgici latini antiquiores, lungentis annis antiquiores, cioè più antichi di 900 anni, questo perché? Perché allora i protestanti avevano detto, un secolo prima, i protestanti avevano detto che la liturgia c'era una volta la liturgia, ma adesso non è più quella, i libri liturgici che si erano nella chiesa cattolica erano recenti, non erano del primo millennio, allora lui ci tiene a dire che questi sono codici più antichi di 900 anni, quindi questo codice risalirebbe secondo il Tomasi al 780, gli studiosi più recenti sulla base delle nuove ricerche hanno potuto stabilire che di fatto il codice è stato trascritto nel 750, quindi non si era sbagliato di molto, ma insieme a questo codice pubblica anche altri libri che si trovano nella proprietà vaticana, cioè i libri liturgici gallicani, il missale francorum, il missale gallicano un vetus e il missale goticum e fa una prima pubblicazione. Perciò lui va a ricercare questi testi antichi per la pubblicazione? Cercava i libri più antichi e aveva dei criteri per riconoscere quelle più antiche, per esempio quando noi nel messale oggi sentiamo il nostro papa N, il nome, nei libri più antichi c'era il nostro papa in corsivo, il, quello, dove trovi il è più antico di dove trovi N, questo è uno dei criteri per dire, lui gli interessava e allora non soltanto cerca tutto quello che trova nelle biblioteche di Roma, per cui pubblica i sacramentari, cioè i libri che contengono le preghiere per la messa, per i sacramenti, ma pubblica un evangeliario, un lezionario, un antifonario o più di un antifonario, sia della messa che dell'ufficio e poi ha il suo programma, io voglio pubblicare tutti i libri che riguardano la liturgia, sia della messa, sia dei sacramenti, sia della liturgia delle ore e allora si mette in corrispondenza con altri bibliotecari, con il bibliotecario di Monte Cassino, Erasmo Gattola, abbiamo tante lettere scritte dal Tomasi a Erasmo Gattola, si mette in corrispondenza col bibliotecario della celebre abbazia di San Gallo in Svizzera e pubblica questi libri e li manda e oltre ai libri strettamente liturgici si è occupato anche della Bibbia, ha pubblicato in un volume gli antichi titoli della Bibbia, la Bibbia oggi noi l'abbiamo divisa in libri e questo era anche prima, ma ogni libro è diviso in capitoli e in versetti, ma questa divisione in capitoli e versetti è recente, prima c'erano invece delle raccolte di titoli, diciamo di sottotitoli diremmo oggi, di tutta la Bibbia e lui l'ha pubblicata, poi si interessa molto del Salterio, il Salterio lui lo studia per motivi liturgici perché il Salterio è il libro fondamentale della preghiera della Chiesa e ha pubblicato due volte il Salterio, la prima volta l'edizione romana e gallicana messe a confronto, l'edizione gallicana quella romana sono due traduzioni latine, la prima quella romana perché è in uso nella Chiesa di Roma, nella preghiera della Chiesa di Roma è una prima revisione fatta da San Girolamo, invece quella gallicana che si chiama così perché è stata usata per prima in Gallia è una seconda revisione del Salterio di San Girolamo appunto e non soltanto pubblica il testo, ma pubblica anche i titoli, ogni Salmo c'ha un titolo nella Bibbia, ma lui pubblica i titoli che ci sono per esempio anche oggi nella nuova liturgia delle ore ogni Salmo c'ha il numero e poi c'ha un titolo in rosso, pubblica questi antichi titoli, poi c'ha il corsivo, noi abbiamo un corsivo in ogni Salmo e lui li raccoglie tutti e trova tanti titoli, li chiama Argumenta e poi pubblica anche una raccolta di collette salmiche per cui noi abbiamo il titolo, l'argomento, poi il testo del Salmo nella duplice edizione e poi una o più, nella seconda edizione saranno più, una o più collette salmiche, il Salmo viene pregato, poi si fa un po' di silenzio e poi ognuno lo mastica per così dire e formula una preghiera che si ispira al Salmo, le avremmo anche oggi se fossero pubblicate nel supplemento della liturgia delle ore, il primo che pubblica è il Tomasi, se ne serviranno poi altri studiosi in seguito, lui è il primo, dopo di lui verranno altri che pubblicheranno libri liturgici come per esempio Ludovico Antonio Muratori, più conosciuto peraltro, ma studiando queste fonti antiche, lui vede che per la celebrazione della liturgia non c'era un solo libro, perché c'era il sacramentario usato dal prete o dal vescovo, poi c'era l'evangeliario che era il libro del diacono, poi c'era l'epistolario che era il libro del lettore, poi c'era l'antifonario che era il libro della scuola, lui dice allora la celebrazione è fatta da un'assemblea, dove ci sono diversi ministri e ognuno ha il suo libro, poi questi libri sono stati confusi insieme, fusi e confusi insieme e auspicherebbe lui che si ritornasse un po' a quella celebrazione comunitaria, al suo tempo invece la messa privata era la più comune, allora dallo studio delle fonti lui ricava certi principi per il modo della celebrazione e anche per una riforma, lui pensa già ad una riforma generale della liturgia, parla di una riforma del calendario, una riforma del messale, una riforma del breviario e una riforma del cerimoniale al suo tempo, i libri liturgici erano stati pubblicati dopo il concilio di Trento dai papi Pio V fino a Paolo V e Paolo V aveva pubblicato l'ultimo libro, il rituale Romanum nel 1614, dunque 50 anni prima della sua nascita e già pensa ad una riforma, perché lui notava che i libri più antichi erano più puri e soprattutto pensavano alla celebrazione comunitaria, alcune osservazioni che fa, per esempio lui nota che quando si benedice l'incenso all'offertorio, per fare l'incentazione all'offertorio si diceva, e si potrebbe ancora dire, per intercessione me beati Micaelis arcangeli stantis a destra i saltari i sincensi, per intercessione di San Michele che sta a destra dell'altare dell'incenso, Tomasi dice ma a destra dell'altare dell'incenso, quando è apparso a Zaccaria, in questi giorni di Natale l'abbiamo sentito, non era l'arcangelo Michele, ma era l'arcangelo Gabriele, come mai nel messale c'è scritto di San Michele se invece era Gabriele, per dire come, con quale, e poi nota che altri riti non corrispondono a quello che, bisognerebbe riportare il rito alla purezza, ma soprattutto per quanto riguarda la celebrazione, lui si interessa che il popolo partecipi, anche se la parola allora era assista, e dice, c'è un opuscolo, credo che sia di un'attualità estrema, pur essendo datato, nel 1706, lui pubblica questo libretto intitolato Breve istruzione sul modo di assistere fruttuosamente al sacrosanto sacrificio della messa secondo l'intenzione della Chiesa. E lui dice, l'intenzione della Chiesa, per esempio, nel proclamare le letture, non è che durante l'Epistola il popolo pensa alla predicazione di Giovanni Battista e durante il Vangelo pensa alla predicazione di Gesù, ma lo scopo che ha la Chiesa è quello di annunciare quella parola perché il popolo la senta, l'ascolti, la comprenda e la viva. Allora, ma se i fedeli non capiscono il latino? Per quelli che capiscono la lingua latina basta che seguano le parole e le preghiere che il sacerdote dice. Per quelli invece che non capiscono la lingua latina bisogna preparare un sussidio e lui per la prima volta lo fa, traduce le risposte più semplici, Amen, parola ebraica che significa così è, Alleluia, parola ebraica che significa lodate Dio, Dominus Vobiscomum, parola latina che significa il Signore sia con voi, e Kyria Leison, parola greca che significa Signore e Pietà, spiega tutte queste risposte. Poi traduce il gloria e il credo, ma non può tradurre il canone, cioè non può tradurre la preghiera eucaristica, perché era successo che nel 1659, lui aveva 10 anni allora, in Francia un vescovo, il vescovo Voisin, aveva tradotto tutto il testo del canone romano e due anni dopo Papa Alessandro VII aveva proibito quella traduzione. Aveva addirittura minacciato la scomunica a quei figli di perdizione, queste sono le parole della bolla, a quei figli di perdizione che osano mettere in mano al volgo di qualunque età e sesso, quindi peggio alla donna naturalmente, il venerabile testo del canone romano e aveva comandato, aveva dato la scomunica a tutti gli editori, gli stampatori e i venditori di quel libro e aveva comandato che tutti questi libri fossero raccolti nella pubblica piazza per essere bruciati. Allora Tomasi, obbediente, perciò è santo, non traduce, però mentre il sacerdote dice la preghiera eucaristica sottovoce, mette in bocca ai fedeli delle preghiere che sono di fatto la parafrasi del canone, non è una traduzione, in modo che tu non pensi ad altro, ma ti unisci a quello che il sacerdote dice sottovoce. E così si comincia a parlare di una prima partecipazione consapevole, come poi dirà il concilio. Questo è, per così dire, l'antenato del messalino. Quando poi noi avremo, nel 1900, i primi messalini bilingue col testo latino e italiano, questi sono i successori di quella prima istruzione che si potrebbe, poi dopo il Tomasi, altri hanno tradotto per intero un formulario, per esempio il Muratori, o poi addirittura in Francia il Lebrun, Pierre Lebrun. E per questa settimana ci fermiamo qui, su questa splendida intuizione della traduzione per quanto riguarda le risposte e le parti della celebrazione, per permettere così ai fedeli una maggiore comprensione di quello che appunto si va a vivere durante la celebrazione. Nella prossima puntata parleremo proprio di come San Giuseppe Maria Tomasi mise un punto fermo su quella che appunto è la partecipazione dei fedeli durante le liturgie. Lo vediamo nella prossima settimana.